Amici e amiche di RBA, CIS è una vera e propria piazza in cui si incrociano storie, persone, incontri, prodotti e tutto ciò che riguarda non solo ovviamente il formaggio ma anche i prodotti derivanti dal latte storie di solidarietà, storie di cambiamento, storie di formazione formazione che ha un ruolo importante nell'attività, nella filosofia di Slow Food ed è molto importante secondo me parlare della formazione perché da una realtà come l'Università delle Scienze Gastronomiche ad esempio nasceranno coloro professioniste e professioniste che si occuperanno di cibo buono e di buon cibo ed è un piacere per me introdurvi tre ospiti che abbiamo qui con noi nella nostra postazione di RBA in piazza Spittenbach qui a Bra, abbiamo con noi Lia, Bianca e Riccardo ciao Lia, buongiorno, ciao Bianca, ciao Riccardo, buongiorno mi sono ricordato anche i nomi, ce l'ho fatta, è un piacere avervi qui su RBA allora innanzitutto vorrei introdurvi, voi avete studiato, state studiando o avete terminato il vostro percorso di studi all'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Lia? No, stiamo studiando, stiamo proseguendo con la magistrale, siamo al secondo anno e veniamo da percorsi diversi di triennale e stiamo proseguendo gli studi qua a Pollenzo percorsi diversi della triennale, hai voglia di spiegare Bianca di cosa si tratta? ci sono vari indirizzi di studio all'Università delle Scienze Gastronomiche quindi è un vero e proprio Ateneo come gli altri insomma, vero? Certo, assolutamente, c'è un percorso di triennale, un percorso di magistrale che è quello che stiamo seguendo noi in Food Innovation and Management e ci sono diversi tipi di master che si occupano di vari aspetti tutti legati all'alimentazione, alla sostenibilità Ho capito, sostenibilità, formazione, alimentazione argomenti che insieme, insomma in modo armonico, vengono trattati dall'Università delle Scienze Gastronomiche che si trova a Pollenzo, vero Lia? Esatto, a Pollenzo provincia di Cuneo, tu da dove arrivi? Io vengo da Rimini Da Rimini, tu invece Bianca? Provincia di Milano Riccardo, tu? Io vengo da Roma E come hai scoperto, poi ovviamente farò la domanda anche a Lia e a Bianca come hai scoperto l'Università delle Scienze Gastronomiche? Come sei arrivato a vivere, insomma, questa esperienza a Pollenzo? Io ho conosciuto l'Università, poiché tra conoscenze e parenti che hanno già frequentato questa Università conoscevo un po' l'ambiente, cosa si faceva, di cosa si parlava ho approfondito un po' una volta che ero arrivato verso il termine dei miei studi precedenti e quindi ho deciso poi di venire qua per proseguire gli studi, appunto Di che cosa hai studiato prima di arrivare all'esperienza di Pollenzo? Io ho fatto una triennale in Economia e Finanza all'Università di Tor Vergata a Roma E perché, nello specifico Scienze Gastronomiche, hai parlato dell'esperienza che hai condiviso con i tuoi familiari ma che cosa ti ha spinto anche a te, insomma, a continuare questo percorso qui a Pollenzo? Beh, sicuramente la volontà di combinare, diciamo, gli studi prettamente economici e teorici con qualcosa di più pratico in un ambito che mi interessasse veramente cercare qualcosa che rispecchiasse le mie passioni e l'ho trovato proprio in questo percorso di studi qui nella Laura Magistrale di Pollenzo Bello, mi piace Bianca, invece, il tuo percorso, come sei arrivata qui vicino, insomma, a Pollenzo e quindi qua a CIS Tu sei di Milano e che cosa hai studiato prima dell'Università delle Scienze Gastronomiche? Io ho studiato Scienze Internazionali e Istituzioni Europee in Statale a Milano È stato un percorso che mi ha dato tanto, mi è piaciuto molto e diciamo che sono atterrata a Pollenzo perché mi piacerebbe molto combinare il mondo della sostenibilità e dell'alimentazione con il mondo delle relazioni internazionali Ah, bello! Quindi, sì, mi piacerebbe molto legare i due ambiti E anche tu, come Riccardo, hai una storia, diciamo, di famiglia oppure è un percorso assolutamente tutto tuo? No, io ho visitato l'Università di Pollenzo e la Banca del Vino che si trova, appunto, a Pollenzo nel 2020, durante un viaggio di svago con la mia famiglia e durante questo viaggio ho conosciuto Pollenzo e mi sono subito molto appassionata perché comunque il mondo del cibo, il mondo dell'alimentazione mi ha sempre interessato e successivamente, dopo, una volta terminato i miei studi mi sono chiesta dove volessi, che cosa volessi fare dopo dove volessi andare, diciamo, a immergermi e ho trovato questa realtà che mi sta dando tantissimo mi piace molto Bello, bello! Lia, tu arrivi da Rimini, invece Qual è stato il tuo percorso prima di arrivare all'Università delle Scienze Gastronomiche? Anche tu hai qualcosa che ti richiama a quello che è la tua famiglia esperienza familiare o di amici o di amiche, come Riccardo? Oppure hai intrapreso una strada tua, come ad esempio ha avuto modo di vivere e sta vivendo Bianca? Ma io ho studiato Scienze Gastronomiche all'Università di Parma, come triennale e poi ho iniziato a conoscere un po' tutti gli eventi che fa Slow Food e mi sono appassionata a tutto quello che fanno e ho deciso di proseguire gli studi nella magistrale qui a Pollenzo per dare un approccio un po' diverso e sperimentare entrambe le università che hanno comunque ambito cibo però con approcci diversi e quindi mi sarebbe piaciuto continuare qua e qua sono Che cosa cambia l'approccio, Lia? Ma semplicemente sono due università un pochino diverse quindi a Parma ho sperimentato tanto la conoscenza del cibo dal punto di vista scientifico e qui a Parma invece abbiamo un approccio molto più olistico e quindi stiamo sperimentando appunto uno sguardo a 360 gradi e quindi ci sta cambiando molto il mindset associato al cibo Il mindset, quindi il modo di approcciarsi mentale alle questioni che riguardano le scienze gastronomiche scusate parlo proprio pane al pane, avete pazienza ma per far capire un po' a tutti e meno ci proviamo Quello che mi piace Riccardo di questa esperienza dell'università delle scienze gastronomiche di Pollenzo è l'unione di tante storie come le vostre che arrivano davvero da ogni parte del mondo perché io ricordo tempo fa le esperienze di ragazzi e ragazze che arrivano dagli Stati Uniti, dal Giappone insomma tutto il mondo si ritrova in quel di Pollenzo è un vero e proprio laboratorio, possiamo definirlo anche così ci sono esperienze di approfondimento come avete raccontato voi ma ci sono anche realtà e situazioni molto pratiche che vi permettono di sperimentare Sì, assolutamente, l'università ci dà queste possibilità verrebbe da definirla un melting pot, una grande pentola dove siamo tutti dentro alla fine in cui trovi ragazzi che vengono oltreoceano, tante persone europee, qualche ragazzo africano quindi è bello poter dire sì sono in corso con 5-6 italiani poi ho una ragazza olandese, un ragazzo tedesco, uno francese, uno spagnolo quindi mettere insieme percorsi di vita diverse, anche culture diverse e trovare idee nuove per sperimentare tutto ciò di cui stiamo studiando e che stiamo andando a trattare noi Bianca, voi arrivate da tre percorsi diversi nell'ambito dello stesso universo ecosistema dell'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo ci sono dei tutor, degli insegnanti, dei docenti che vi accompagnano anche a sperimentare a creare qualcosa di vostro, per esempio, e così arriviamo al punto perché voi siete qui con noi questa mattina su RBE, arrivate da tre percorsi differenti nell'ambito di Pollenzo che cosa vi ha unito, che cosa avete creato insieme, anche grazie immagino al tutorato dei docenti dell'Università? Allora, diciamo che oltre alle lezioni teoriche in aula ci sono tante attività che ci portano a conoscere anche tante realtà della zona e non solo, poiché comunque durante l'anno ci sono dei viaggi didattici che ci portano a conoscere appunto, proprio a immergerci sia nel mondo produttivo che nel mondo delle aziende uno dei lavori che abbiamo seguito e che abbiamo portato avanti è stato grazie alla nostra professoressa di sociologia che ci ha fatto conoscere una realtà nella provincia di Cuneo, quindi molto vicina a noi che è Cop Tesori Bio, quindi è una cooperativa sociale che si occupa di produrre, diciamo, yogurt e formaggi quindi prodotti lattiero casearei, che impiega anche ragazzi svantaggiati, che hanno difficoltà e diciamo che quello che abbiamo voluto portare e approfondire è stata la comunicazione di questa azienda nell'etichetta dei loro prodotti. Ho capito. Lia, quindi un'esperienza molto pratica, una case history, la vostra, proprio un caso che può essere da esempio magari anche a chi ci sta ascoltando in questo momento, come è stato l'approccio con l'azienda e in che modo state portando avanti questa collaborazione e in che modo concretamente portate avanti il vostro progetto? Sì, allora tutto è partito da una visita in azienda con la professoressa di sociologia Onorati Che cosa propone in pratica il progetto? Semplicemente abbiamo ripensato un'etichettatura per un prodotto, quindi uno yogurt ci siamo focalizzati sullo yogurt perché è un prodotto con cui abbiamo familiarità e è presente nell'offerta delle tavole accademiche all'Università di Pollenzo e comunque è un prodotto conosciuto quindi abbiamo ripensato un'etichettatura in modo che l'azienda potesse esprimere molto meglio il loro impegno sociale perché hanno un forte impegno appunto nel sociale quindi per aiutare i ragazzi svantaggiati ma questo non veniva comunicato in etichetta, quindi la nostra proposta era proprio quella di riorganizzare e ripensare l'etichetta in toto Riccardo immagina me come consumatore, mi approccio a questo prodotto, a questo yogurt scopro cos'è un QR o un qualcosa sull'etichetta che riguarda questa storia io che cosa devo fare, io che cosa vedo sull'etichetta di questo yogurt raccontami praticamente come avete immaginato poi dal lato consumatore in questo vostro progetto, questa vostra idea fondamentalmente noi ci siamo focalizzati su tre cose prima di tutto un claim evocativo in modo tale che il consumatore possa riconoscere il prodotto anche solo leggendo lo slogan di questa cooperativa che noi abbiamo pensato possa essere solidale per natura perché loro si spendono molto per l'inclusione sociale e in più hanno prodotti esclusivamente di tipo biologico in più l'aggiunta di un QR code, quindi un codice digitale che si può aprire con lo smartphone in modo tale che il consumatore possa andare a leggere informazioni in più sul prodotto stesso ma anche su chi produce effettivamente quello yogurt nel nostro caso e inoltre anche un microchip che è l'NFC detto così sembra molto complicato ma in realtà è la tecnologia che sta alla base di tutti i sistemi di pagamento wireless per esempio quindi il sistema contactless in cui avvicinando il telefono all'etichetta è un microchip che si troverà sotto l'etichetta avvicinando il telefono si potrà aprire lo stesso sito della cooperativa un video esplicativo, qualunque cosa si voglia in questo modo il consumatore può essere a conoscenza di chi fa il prodotto e di cosa il prodotto è stato in grado di generare sia in termini di valore intrezionale sia di valore umano Il valore umano diventa quindi un ingrediente in più Bianca un ingrediente che va ad aumentare l'offerta di questo yogurt possiamo anche interpretarla in questa maniera? Certo assolutamente quello che lo scopo del nostro progetto è proprio questo proprio valorizzare la persona all'interno della produzione perché spesso ci dimentichiamo che comunque dietro il prodotto in sé dietro c'è tanta mano d'opera e tanta mano d'opera di persone che non sarebbero comunque impiegate avrebbero difficoltà a trovare un altro tipo di lavoro quindi assolutamente Lia, una riflessione, un giro adesso di tre riflessioni differenti partiamo da te uno degli aspetti che ho avuto modo di approfondire con la Presidente di Slow Food, Barbara Nappini è il prezzo al chilo come comunicare la bontà di un prodotto che è una prima immagine perché siamo stati abituati così dalla comunicazione stiamo parlando di comunicazione e di marketing un ovetto di pseudo cioccolato con un oggetto di plastica dentro costa 90 euro al chilo un chilo di pomodori o che so di formaggio invece magari ce ne costa 10, 15 dico una cifra però diciamo che no è troppo caro e quindi vado sull'ovetto come possiamo cambiare secondo voi il modo di comunicare i prodotti buoni il cibo buono il cibo giusto per farlo passare per farlo finalmente diventare una buona e sana abitudine vi lancio questa sfida cominciamo da Lia io credo proprio che attraverso questa comunicazione così chiara evocativa che si possa conversare con il consumatore e permettere che si facciano delle scelte più consapevoli e a quel punto saremo anche in grado di veramente essere disposti a pagare un pochino di più ma per un prodotto che ha alle spalle una storia diversa Bianca vorrei il tuo parere secondo me tutto parte dall'educazione e dall'informazione quindi fare capire che questo prodotto non è soltanto buono perché è buono di gusto ma è buono per la sua storia quindi tramite l'informazione tramite tutto ciò che deriva dalla circostanza di questo prodotto la circostanza di questo prodotto Riccardo un altro pensiero rispetto a questa questione che abbiamo sollevato insieme riprendendo un po' quello che hanno detto loro diciamo bisogna creare dal mio punto di vista un rapporto tra l'azienda produttrice e il consumatore creare questo legame di fiducia che si basi non solo sull'abitudine al consumo di un certo prodotto ma sull'abitudine ad un acquisto consapevole quindi essendo a conoscenza di cosa c'è nel prodotto e di cosa effettivamente ci serve quando andiamo al supermercato a fare i nostri acquisti ecco quindi tutto questo rientra in un progetto di formazione di informazione del consumatore della consumatrice partendo dai bambini dalle bambine quindi dalla base di quello che sarà il futuro questo è molto altro il QR in questo yogurt nato da un contesto da una cooperativa che dà una possibilità a ragazzi e a ragazze in una condizione di disagio crea lavoro crea una possibilità di così di concepire il cibo in un modo diverso Lia, Bianca e Riccardo io vi auguro buon lavoro c'è molto da fare abbiamo le maniche tirate su un po' tutti abbiamo da fare però penso che sia una sfida davvero molto bella per voi vero Bianca assolutamente grazie mille grazie a voi grazie Lia grazie Bianca grazie Riccardo grazie a tutti